Sul trattato di Lisbona è stato l'unico che ha conferito qualche potere effettivo, reale e concreto in più al Parlamento europeo che adesso può co-decidere insieme su alcune materie che prima erano di esclusiva e solitaria competenza della Commissione europea. Quindi se il Parlamento europeo contava zero virgola adesso qua c'è l'amico Scottà, c'è Francesca Donato candidata, c'è Mara Bizzotto, c'è Lorenzo Fontana con cui abbiamo fatto tante battaglie. Grazie al trattato di Lisbona che ha luci e tante ombre per carità di Dio però una delle poche luci è che il Parlamento europeo conta e può dire dei no e può rispedire indietro delle leggi che fino a ieri invece poteva solo, su cui poteva solo dare un parere consultivo. Si diceva sì va bene, si diceva no va bene lo stesso. Quindi la battaglia della Lega ventennale evidentemente è per dare potere all'unico organismo democraticamente eletto in Europa che è il Parlamento europeo. Detto questo la via politica è chiaro che se il 26 maggio l'Europa si risveglia non con 30 euro scettici. Adesso siamo in 30 su 700. È chiaro che in 30 su 700 fai la battaglia che fai, ti va bene una volta e ti va male le altre 99 volte. Se invece di essere in 30 su 700 fra padani, austriaci, finlandesi, svedesi, danesi, polacchi, francesi, inglesi, fossimo in 200 su 700 e da lì devi passare perché lì sì che si devono mettere tutti insieme PD, Forza Italia, Schulz, Juncker e tutti quanti ma 30 li puoi bypassare, 200 no. E se il front nazionale il 26 maggio è primo partito in Francia nessuno mi toglie l'idea del fatto che la Francia va a votare velocemente e se il movimento per la liberazione dall'euro comunque sia connotato, io sono d'accordo chiunque si batta per uscire da quella gabbia di matti che l'euro è mio amico poi ci dividiamo dopo, però prima vivere e poi filosofare. Quindi il 26 maggio i francesi hanno più palle di noi e quindi sicuramente andranno per la loro strada. Austriaci, olandesi, stando ai sondaggi, faranno la stessa scelta. Gli inglesi idem, anzi loro sono già fuori dall'euro e se vincono vogliono uscire proprio dall'Europa quindi sono già a un passaggio ulteriore e noi ci infiliamo. Poi nessuno ha la sfera di cristallo però io sono orgoglioso del fatto che ci stiamo giocando la partita. Stiamo provando a giocarci la partita fino a un anno fa, serate come queste, ce n'erano. Fino a un anno fa c'era un racconto che è terrorizzante io sono entrato in lega contro gli sprechi del sud, contro i falsi invalidi, contro i forestali della Calabria per l'autonomia fiscale, per l'indipendenza, sono andato sul po' però effettivamente quando ti rendi conto che mentre tu ti batti per l'indipendenza del Veneto o della Lombardia o per il federalismo fiscale sopra la tua testa ti stanno disegnando qualcosa che se ne strafotte dell'indipendenza del Veneto perché se va a buon fine il loro progetto noi facciamo l'indipendenza del deserto perché ci si fottono le ultime aziende sane rimaste tu fai l'indipendenza e poi vai a chiedere a Berlino il permesso di poter spendere due lire per l'ospedale di Treviso e allora ti rendi conto che c'è un'emergenza cioè se questo auditorium inizia a prendere fuoco io come prima cosa scappo poi se riesco mi porto via la bandiera però non è che sto lì a decidere sta prendendo fuoco, prendo prima la bandiera con il Leone, la bandiera della Lega o porto via il telefonino? Prima scappo e poi penso eventualmente alla bandiera quindi prima dobbiamo mettere in sicurezza il tetto e quindi uscire e poi continuiamo con tutte le battaglie della Lega però sentire questo disegno che poi una volta sentito adesso voi tornate a casa e sono sicuro che ciascuno di voi come è successo a me la prima volta dice cazzo mi era sembrato però effettivamente messo in fila 1, 2, 3, 4 è già successo nell'87, è già successo nel 92, è già successo in Grecia, è già successo in Argentina io sono convinto che se su Rai 1 dedicassero mezz'ora in prima serata a un racconto come questo il giorno dopo la gente esce col fucile io sono sicuro